Salve a tutti, sono Antonella Berriolo, sono l'insegnante del corso Italia CEU Plus, italiano C1+, della Scuola Officiale di Idiomas di Drassanas, un corso che verrà impartito quest'anno blended, cioè faremo alcune sessioni online e alcune sessioni in presenza. Innanzitutto, un applauso. Bravi, siete arrivati al C1, siete l'elite, la minoranza, i pochi che raggiungono questo livello. Veramente i miei complimenti, sono molto fiera di tutti voi. Sono sicura che anche voi sarete molto contenti, una grande soddisfazione, un obiettivo che molti si pongono, ma solo pochi, i più costanti, quelli che si impegnano di più, normalmente riescono a raggiungere. Quelli che hanno una maggiore passione per l'italiano. Bravissimi, veramente. Eppure io sono convinta che non siete ancora soddisfatti, perché quando si raggiunge il C1, ovviamente ci si sente molto più sicuri che quando uno aveva un B1, ma ancora quando siamo con gli amici, non parliamo come loro. Sembra che parliamo un po' come un libro stampato. D'altra parte, però, se ci troviamo in una situazione più formale, invece ci sentiamo che non sappiamo bene cosa dobbiamo dire, insomma, che non dominiamo ancora questa lingua. C'è una grande soddisfazione, ma allo stesso tempo un po' di frustrazione, perché magari ci aspettavamo che ci saremmo trovati a nostro agio con l'italiano, a parlare in modo sciolto e disinvolto in tutte le situazioni. Allora, non è così. E vi assicuro che nemmeno dopo questo corso sarà così. Ma l'obiettivo di questo corso è aiutarvi a affrontare alcuni temi. Quali sono i registri? Quindi, saper parlare in situazioni informali o situazioni più formali. E anche a volte un'altra difficoltà che si ha sempre con la lingua è il poter rilevare magari un riferimento culturale, capire magari una frase che comporta ironia. Cioè, quello che manca a volte è anche la cultura. La cultura non è solo per farsi belli, no? Quante cose so. Ma la cultura è anche tutto quello che più o meno la gente che vive in un determinato paese sa e conosce. Per questo, appunto, è importante la cultura con la C minuscola, una cultura molto popolare, e anche la cultura con la C maiuscola, perché tutti più o meno siamo passati sui banchi di scuola. Quindi questa cultura condivisa, direi, questi elementi con cui poi giochiamo quando scriviamo, quando parliamo, no? Il riferimento, la frase, la citazione, eccetera, eccetera. I punti su cui si articola tutto il corso sono fondamentalmente tre. Lessico, 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 non come lista di parole, ma come espressioni idiomatiche, frasi fatte, collocazioni, i chunk, cioè quelle espressioni che sono più o meno sempre così, i segnali discorsivi, poi i registri, quindi andiamo dal più colloquiale al più formale, e la cultura, che è un altro elemento fondamentale, anche per comprendere e per esprimerci. Non è solo per farsi belli la cultura. C'è un altro fattore che secondo me è molto importante a questo livello, è capire che in realtà siete in grado di fare tutto quello che volete. Una grande libertà. A volte si ha paura, no? Di alcune cose, a volte si pensa, ah no, io questo no, oh, è impossibile. E in alcuni casi cercherò di dimostrarvi che non è vero, che potete fare molto più di quello che pensate. I temi che tratteremo sono cultura gastronomica, fumetti, introduzione perché sarebbe un campo enorme, l'italiano colloquiale è anche introduzione perché uno ci potrebbe fare un corso intero, l'italiano scientifico pensando a un campo che magari può essere più interessante come la medicina, no, tutti abbiamo letto, in questo periodo leggiamo costantemente articoli che trattano di temi di medicina. La canzone italiana, l'italiano burocratico, l'italiano movimento, che sarebbe le espressioni per descrivere movimenti. Parlare d'arte, Dante e l'inferno. Ok, l'ordine non è esattamente questo, cerco sempre di alternare temi magari un po' più pesantini, come potrebbero essere l'italiano burocratico, a temi più leggeri come per esempio l'italiano delle canzoni eccetera e quindi in un certo modo fare un blocco di 3-4 lezioni su, non so, l'italiano colloquiale seguito da un tema un po' più pesante come potrebbe essere l'italiano scientifico e poi magari qualcosa di cultura eccetera eccetera. Se avete qualsiasi dubbio o domanda, volete contattarmi, potete farlo all'email che metterò qua sotto. Niente, questo è tutto, spero di aver risolto alcuni dei vostri dubbi. e... Grazie a tutti